L'amministrazione Melucci, l'amministrazione più incapace che Taranto abbia conosciuto. Ci troviamo qui in Piazza Fontana da giorni e giorni, da settimane. Guardate cosa succede. Il pochino è sprofondato e ora addirittura si è sollevato completamente. La solita transenna e poi chi si è visto si è visto. Ora cosa dobbiamo aspettare? Melucci, cosa dobbiamo aspettare? Assessore ai lavori pubblici, Ciracci, muoviti, comandante dei vigili urbani. Non basta mettere la transenna. Polizia locale di Taranto, dovete intervenire perché è a rischio la sicurezza. Guardate che casino che si crea. I bus, le macchine, si devono contorcere per passare. Guardate che cazzo sta succedendo qua. Che cazzo sta succedendo. Ma è possibile che nessuno interviene in questa cazzo di città? Guardate, questi altri camminano dritto, la polizia locale, e cammina dritto. Giustamente, ha da fare altro. E qui? E qui? Ma che città è questa? Ma da chi siamo amministrati? Guardate un poco che scegno. Guardate. Sto girando la città con un piede mezzo rotto perché non è possibile assistere a una cosa del genere. Guardate. Ma assurdo, assurdo. Si è proprio sollevato completamente. Guardate, guardate. Si è sollevato. Le macchine devono fare ma cintano. Guardate. Si devono restringere. Con forza. Guardate, guardate. E questa è Taranto, capitale del mare? Questa è la rinascita che tu stai seminando? Melucci, Manzulli, Ciraci, Marti, andatevene a casa. Andate via. Guardate, guardate. Che merda.